Buongiorno, ritroviamo Andrea Pilotti, siamo al terzo appuntamento, lui è responsabile della ricerca presso l'osservatorio della vita politica regionale all'Università di Lausanna, ci sta aiutando a monitorare discorsi importanti sulla natura e sulle risposte elettorali che dà il Ticino. E quest'oggi vogliamo occuparci, avevamo anticipato, del caso particolare di Lugano, è pur sempre la città più importante del cantone. Ecco, come leggere e valutare le particolarità politiche e di gestione politica appunto di Lugano? Allora, partirei da una considerazione anche interessante che riguarda appunto il Ticino e Lugano. Lugano infatti, a differenza di altre città svizzere, ha la particolarità di non cumulare il ruolo di capitale politica a quella economica. E quindi questo storicamente spiega anche questo forte dualismo con la capitale politica bellinzona e il polo economico finanziario di Lugano. Storicamente poi Lugano ha dovuto lottare per imporsi anche sul piano politico, riuscendovi soprattutto nel corso degli anni 90, anche grazie ai progetti di fusione comunale. Questo è molto interessante perché ancora una volta vediamo come le radici di un problema possono essere tutt'altro che superficiali. Comunque, lei mi ha segnalato che negli ultimi quattro anni ha diretto una ricerca del Fondo Nazionale sulle trasformazioni dal profilo socio-demografico di quattro città svizzere, fra cui Lugano, oltre a Zurigo, Losanna e Lucerna. Quale sostanza è emersa da questa vostra ricerca? Il risultato principale è quello che Lugano si contraddistingue per una trasformazione estremamente limitata del profilo della sua classe dirigente. Lugano è ancora una città nella quale è predominante in qualche modo il profilo del politico notabiliare, quindi legato a delle professioni liberali, soprattutto di avvocato, di ingegnere o di architetto, mentre altre città svizzere, in particolare Losanna e Zurigo, include nel nostro progetto, hanno conosciuto delle trasformazioni molto più significative anche del profilo degli loro eletti che le distingue chiaramente da Lugano. Ma questo cosa comporta in termini poi pratici? Qual è la differenza, se facciamo degli esempi, con altre città? Quello che è interessante è che sin dagli anni Ottanta, nelle principali città svizzere, ma anche europee, assistiamo all'arrivo in qualche modo di profili più manageriali in qualche modo di politici. Si parla spesso anche di città, di una gestione imprenditoriale, manageriale delle città, e questo quindi si traduce anche con la ricerca di profili di municipali determinati. A Lugano questo non avviene. Lugano è confrontata, come altre città, con problematiche importanti, anche a livello infrastrutturale, ma si ritrova a gestirle in qualche modo con una classe politica legata ancora a dei retaggi del passato. Ecco, infatti cosa vediamo, cosa notiamo, lo si è anche sottolineato in questa campagna elettorale, che Lugano fa fatica a gestire dei grandi progetti, a mettere in cantiere i grandi progetti, e questo la contraddistingue anche da altre città svizzere delle stesse dimensioni, che invece vediamo che sono riuscite a realizzare molto. Da cosa dipende tutto questo? Perché Lugano, in fondo, sembra non riuscire quasi mai a convincere i cittadini, a farli partecipare, a condividere con i cittadini dei progetti. Credo che sia proprio riconducibile a questo profilo e questa predominanza di una politica ancora di stampo notabiliare, una politica in cui, insomma, la gestione dei progetti avveniva spesso anche a livello interpersonale, tra due e tre persone, e il progetto andava avanti in questo modo. Oggigiorno non è più di attualità una tale gestione, il cavo di Losanna, di Zurico, di Berna, ma anche di Ginevra, dimostra che è necessario favorire un approccio molto più inclusivo e partecipativo degli abitanti dei diversi quartieri, ma non solo in maniera puntuale, ma in maniera ricorrente, molto regolare. E questo ancora, forse, Lugano manca, questo approccio. E questo contraddistingue Lugano anche in Ticino rispetto agli altri centri? Diciamo che, per quanto riguarda, ad esempio, il cavo di Bellinzona, il progetto di aggregazione ha avuto anche una genesi e uno sviluppo ben diverso da quello luganese, molto più partecipativo, quindi molto una genesi dal basso, mentre quella di Lugano è stata una scelta, un progetto di fusione legato molto anche al dinamismo dell'allora sindaco Giorgio Giudici. E questo, forse, ecco, è un approccio che oggigiorno sarebbe difficile immaginare. Ecco, piloti, però sembrerebbe esserci anche una contraddizione, se parliamo di Lugano in particolare, di questo fenomeno di scarsa partecipazione, c'è da sottolineare il fatto che Lugano ha un'amministrazione fortemente condizionata dal partito maggioritario, cioè dalla Lega, la Lega che si presenta come partito popolare, poi cosa succede? Il partito popolare non riesce a coinvolgere il popolo? Allora, effettivamente è una giusta osservazione. Credo che, da questo punto di vista, la Lega forse sconti e paghi un po' anche la sua natura, che rivendica era sempre, di movimento, quindi di non essere partito. E questo fatto, storicamente, un partito ha delle strutture che permettono anche di mantenere, di cercare una vicinanza con l'elettorato, e con anche degli appuntamenti che possono essere più o meno regolari. Venendo meno questa struttura, gli appuntamenti, anche per avvicinare l'elettorato, a parte gli appuntamenti elettorali, vengono a mancare. Quindi, secondo me, forse è anche un po' uno dei nodi al Petni che vengono, che emergono da questa, insomma, voler essere movimento di protesta, ma allo stesso tempo anche movimento di governo. Ecco, in questa situazione comunque anche i partiti tradizionali fanno fatica, no? A far passare i loro messaggi, a contrastare in qualche modo questo tipo di governare. Fanno fatica perché, proprio anche in considerazione delle trasformazioni da partire dal 90, hanno cercato un po' di svecchiare, di rivedere le loro strutture, ciò che di per sé non è stato negativo, ma lo hanno forse talvolta fatto in maniera non adeguata. Quindi, cercando magari di rincorrere quella politica più individualista, hanno perso un po' quelle capacità anche di dialogare con i rispettivi elettorati e anche con altri elettori. Grazie e alla prossima, che sarà anche l'ultima. Grazie a lei ancora.